Il Network Europeo delle Polizie Stradali ha programmato dal 13 al 19 febbraio l'effettuazione della campagna europea congiunta denominata Track and Bus, mirata al controllo del trasporto di merci e passeggeri. Durante questi controlli, mirati soprattutto a verificare le licenze e a contrastare il fenomeno dell'abusivismo, sulla Ragusa Catania è stato segrestato un autocarro, omologato per uso privato, in realtà stava effettuando trasporto merci per conto di un'alta ditta. La sanzione è stata di circa 4.000 euro. Inoltre, alla luce di quanto avvenuto lo scorso dicembre a Chiaramonte Gulfi, con l'incendio all'interno del vano motore di un autobus con studenti in partenza per Ragusa, sono stati controllati tre pullman adibiti a questa corsa. In tutti e tre i casi sono state riscontrate violazioni al codice della strada. In un pullman mancavano i documenti di viaggio e la targa era poco leggibile. Nel secondo vi erano un paraurti rotto, mentre all'interno mancavano i martelletti atti a frantumare i finestrini in caso di pericolo. E nel terzo veniva riscontrato che l'impianto di illuminazione anteriore non era funzionante e che le uscite di emergenza erano bloccate. A questo pullman è stato applicato il fermo amministrativo fino a nuova reimmatricolazione. In totale, dunque, in appena due giorni dalla campagna, la polizia stradale ha contestato 30 in frazioni, di cui tre nei confronti dei conducenti di tir.